Bisogna tornare prima possibile ad una situazione di normalità a San Valentino in Abruzzo Citeriori a Scafa dove a causa della contaminazione dell'acqua potabile sono state registrate gastroenteriti tra la popolazione e notevoli disagi legati all'interruzione dell'erogazione idrica. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale Guerino Testa che intanto ha interpellato l'ACA perché nonostante non abbia la gestione del sistema idrico possa offrire un contributo all'amministrazione comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore. In che modo l'ACA potrà aiutare a superare questo problema che ha destato particolare preoccupazione tra la popolazione? Un problema serio, impattante non solo per il comune di San Valentino ma anche per alcune frazioni del comune di Scafa, quindi riguarda una popolazione abbastanza estesa. Sappiamo perfettamente che il comune di San Valentino è uno dei quattro comuni che non ha conferito le proprie reti idriche all'ACA ma io in qualità di consigliere regionale ho sentito il dovere di interessarmi della problematica. Ho parlato con i vertici dell'ACA, con il direttore generale Marco Santedicola per verificare se l'ACA potesse con il proprio know-how, con le proprie attrezzature, con i propri organismi, interessarsi della questione per cercare di risolverla perché è vero che riguarda una fetta importante di popolazione ma riguarda anche una fetta importante di attività. Pensiamo ai panifici, ai ristoranti e ai bar che attingono l'acqua da quelle falde e che potrebbero avere anche problemi da un punto di vista imprenditoriale. Il giorno dopo l'ACA, che ringrazio ufficialmente, ha dato la propria disponibilità e spero che si incrocino il Comune di San Valentino con l'ACA per risolvere in tempi brevi e ridare fiducia alla popolazione, alle attività imprenditoriali che stanno vivendo una situazione sicuramente molto impattante da un punto di vista della qualità della vita, anche da un punto di vista sanitario e sociale. Grazie.